Gentili telespettatori, buona giornata. Vespa contro il reddito di cittadinanza dice un fallimento assoluto, così non conviene lavorare. Come? Andiamo a vedere bene che cosa dice. Non conviene lavorare. Che sia benedetto o no il reddito di cittadinanza dall'idea che lavorare non conviene, dice Vespa. Nel suo editoriale, sul giorno, riprende le dichiarazioni di Mario Draghi, dice Condivido in pieno il concetto che sta alla base del reddito di cittadinanza, ma dice Un reddito, sia pure minimo, toglie dal mercato del lavoro una quantità enorme di potenziali produttori. Come? Un reddito, sia pur minimo, toglie dal mercato una quantità di potenziali produttori. Ma che vuol dire? Produttori e che? Quindi snocciola i numeri. Al 30 giugno scorso i percettori erano 1.850.000, con la copertura familiare superiore ai 3 milioni di persone. Gli occupabili sono 1.150.000. Di questi meno di 400.000 si sono dichiarati disponibili a lavorare e meno di 4.000 sono tirocinanti, cioè stanno imparando un mestiere, dice Vespa. Salvata la parte assistenziale, quella relativa al lavoro è stata un fallimento assoluto. Le imprese minori, aggiunge Vespa, sono in ginocchio perché non trovano personale facilmente specializzabile e perfettamente coerente con il basso titolo di studio dei percettori del reddito di cittadinanza occupabili. Il 72% non è andato oltre la terza media. Vespa cosa dice? Che il 72% di quelli con reddito che sono pronti per lavorare hanno degli studi molto bassi, arrivano alla terza media, pertanto potrebbero andare a lavorare per degli stipendi molto bassi, secondo Vespa. Il risultato è che chi cerca un cameriere, un commesso, un garzone si sente rispondere mi paghi in nero? Quasi nessuno è interessato nemmeno a uno stipendio di 1200 euro, visto che i 5-600 euro che dovrebbero aggiungersi al reddito di cittadinanza si guadagnano facilmente con qualche prestazione occasionale non assicurata. Dice in campagna 700.000 persone sono assistite dal reddito. Più dell'intero nord si può? Dice. Allora, quello che dice Vespa è interessante. Dice il reddito ti dà 600 euro, tu vai da un datore di lavoro e gli dici tu mi devi dare uno stipendio in nero in modo che io poi faccio la somma dei due. Quindi Vespa dice neanche con uno stipendio da 1200 euro va bene, viene rifiutato perché dici io già ho 600 del reddito, se tu me ne offri 1200 io devo rinunciare ai 600 perché tu mi metti in regola, io vengo a lavorare solo per 600 euro in più, meglio che tu mi dai 1200 in nero e facciamo 1200 più 600, io ho un 1800 netto. Ecco, questa è la parte che dice Vespa, cioè la gente va a chiedere lavoro però chiede di lavorare in nero. Questo è risaputo, l'abbiamo visto in centinaia di testimonianze, no? Guardi, io le faccio risparmiare, lei non mi mette in regola, mi dia in nero così io continuo a prendere il reddito di cittadinanza e allora non trovano i camerieri. Il fatto è che quello con il reddito di cittadinanza dovrebbe essere impegnato tutto il giorno, per sei giorni su sette, cinque giorni su sette, facendo che cosa? Corsi di formazione organizzati dal comune, in più lavori socialmente utili organizzati dal comune. Così lui alla settimana piena prende i suoi 600 euro e non può andare a lavorare in nero come cameriere. Solo che visto che il comune non ti chiama per lavori socialmente utili e non ti chiama per fare corsi di formazione, tu hai tutto il tempo libero di andare a fare un lavoro in nero e in più prenderti il reddito di cittadinanza. Perché il comune non fa i corsi di formazione? Perché non ha i soldi per assumere i professori che fanno i corsi di formazione. Perché il comune non gli fa fare dei lavori socialmente utili? Perché per fare lavori socialmente utili a un certo numero, anche enorme, di gente con reddito di cittadinanza dovrebbe assumere dei coordinatori per coordinare queste persone quando fanno questi lavori socialmente utili. E i comuni non hanno i soldi per assumere queste persone. Ed ecco perché alla fine c'è la gran parte di quelli che hanno il reddito di cittadinanza che va a chiedere fammi lavorare in nero così continua a prendere il reddito di cittadinanza. Beh, su questo aspetto Vespa ha ragione. Pensava che col suo discorso andasse a dire che i 600 euro tolgono un lavoro da 600 euro perché questo era quello che diceva Salvini l'altro giorno. Vi ricordate quando diceva beh, quelli che prendono 548 euro stando a casa dovrebbero vergognarsi pensando che c'è gente che va a lavorare tutto il giorno per 548 euro. Insomma, abbiamo fatto un video anche dei sondaggi che lavorare tutto il giorno per 548 euro si chiama sfruttamento. Pertanto io ho detto in quel momento meglio a questo punto prendersi il reddito per 548 euro che trovare dei lavori che non sono nient'altro che sfruttamento. Ecco, quindi a fronte di un lavoro che si materializza come sfruttamento allora io prendo il reddito di cittadinanza e faccio bene visto che il governo con i contratti nazionali dei vari settori avvalla dei lavori da 548 euro allora io preferisco prendermi il reddito e faccio bene. Ecco, questo è quello che io volevo dirvi. Quindi per fortuna Vespa non è andato anche lui a dire che la gente rifiuta 548 per andare a prenderne altri 548 che è la media di quello che si paga per il reddito di cittadinanza. Diciamo che Vespa intelligentemente tira fuori il tema che questa gente vuole andare a lavorare, anzi probabilmente continua a lavorare ma prendendo tutte e due le cose. Lavoro in nero e lavoro e reddito di cittadinanza. Quindi uno stipendio che ti passa lo Stato e uno stipendio che ti passa il datore di lavoro in nero. Questa è una considerazione abbastanza importante. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, siamo anche poi su Facebook, nell'altro canale di YouTube Teleitalia Seconda Rete dove trovate anche lì dei video da poter mettere e condividere sulle vostre pagine. Ricordatevi che qui nella community trovate i sondaggi e poi Teleitalia Seconda Rete qui con video di politica e anche di altro. Grazie a tutti, ci vediamo, a presto.